A Palo del Colle, Bitonto, Corato e Ruvo di Puglia la neve ha lasciato posto al ghiaccio sulle strade urbane ed extraurbane, trasformandole in vere e proprie trappole per gli automobilisti. Molte le segnalazioni alle forze dell'ordine, in particolare a Corato e Palo del Colle, ma anche nelle frazioni bitontine di Mariotto e Palombaio, dove sotto accusa è finito il modo di liberare le strade dalla neve. L'uso delle pale meccaniche ha liberato nell'immediato le strade dai fiocchi appena caduti, ma contemporaneamente ha anche compattato il ghiaccio al di sotto dei mezzi, creando pericolose lastre scivolose che hanno causato molti incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze. Poco o nulla sarebbero stati impiegati i mezzi spargisale, con cui sarebbe stato possibile sciogliere il ghiaccio e trasformarlo in acqua, sicuramente più gestibile per chi è al volante di un'auto.